Sono 1148 i nuclei familiari del comune di Fano che beneficeranno dei buoni spesa per far fronte alle spese per beni di prima necessità a causa dell'emergenza economica che l'epidemia del coronavirus ha innescato. Dei 322 mila euro arrivati a Fano col decreto Conte ne sono stati impegnati 270 mila creando così un tesoretto di 52 mila euro sul cui utilizzo la giunta comunale deciderà nei prossimi giorni. Le famiglie seguite dai servizi sociali ed educativi e segnalate dalla Caritas sono già state raggiunte mentre tra oggi e domani si terminerà la distribuzione delle buste con i buoni alle 930 famiglie che hanno fatto domanda online in questa settimana per consentire con un grande sforzo di risorse umane a cominciare dagli impiegati dei servizi sociali impegnati nelle operazioni di imbustamento e ai volontari delle sei associazioni del terzo settore impegnate nella distribuzione di far trascorrere a queste famiglie una festività pasquale con maggior serenità e senso di incertezza e smarrimento che purtroppo si accentua in queste occasioni. Noi nel giro di veramente di pochi giorni siamo stati operativi già molti hanno già avuto i buoni li stanno già spendendo nei punti vendita e ieri abbiamo concluso tutta la prima fase che vede coinvolte quasi 1200 famiglie nella nostra città. Sono numeri importanti non abbiamo ancora utilizzato tutta l'intera somma di 322 mila euro però ci tengo a sottolineare che abbiamo usato dei criteri perché quando si fanno questi aiuti bisogna avere un criterio di equità e non essere sbilanciati nei confronti di qualcuno rispetto ad altri perché ci può essere il rischio. Quindi conclusa la prima fase e in queste ore verranno distribuite le altre 50 mila euro che sono ancora non utilizzate dei 322 mila stiamo ragionando oggi abbiamo avuto anche una giunta proprio per definire questo perché vorremmo continuare in questa direzione e la nostra attenzione va a un'altra fascia che è in difficoltà in questi giorni ho avuto molte segnalazioni richieste di aiuto per tutti coloro che hanno un problema della casa, degli affitti che sono un altro bene di prima necessità e nessuno lo mette in discussione. Quindi utilizzeremo queste risorse ovviamente attraverso l'utilizzo dei buoni spesa però per aiutare chi ha questo tipo di difficoltà. Le famiglie che riceveranno la busta con i buoni troveranno al suo interno anche un elenco aggiornato dei punti vendita aderenti all'iniziativa e dove poter acquistare i generi di prima necessità.